Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video è il momento di andare a fare la profile del best deck degli ultimi 27 anni di Yu-Gi-Oh! anche se ne ha 25 il deck Gate Guardian prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale prima di sempre, aggiornati col mondo di Yu-Gi-Oh! non solo grazie mille e andiamo a vedere le carte allora 3 per l'Ebring Savy Tank che è una carta importantissima perché si può giocare senza utilizzare i tributi poi durante la mind phase possiamo piazzare uno dei nostri sun gun in casa di Genosui-Gin che è banditi nella mano del deck scoperto nella zona magge trappola e questo è veramente molto importante abbiamo anche le mura labyrinth che possiamo spaccare in mostro del loppo quindi fa anche da spacchino oltre a piazzarci le carte che ci servono poi Shadow Gowl of the Rhybring lo scartiamo e aggiungiamo la terreno che la terreno comunque ci serve per le carte molto importanti poi se l'avversario durante il Damage Step se un mostro l'avversario combatte mentre controlliamo le mura labyrinthiche possiamo andare questa carta dal graveyard per spaccare quel mostro quindi potenzialmente fa anche uno spacchino abbastanza interessante poi due perdi Sui-Gin, due perdi Kase-Gin, due perdi Sanghan del Tuono quanto sono bellini, quanto sono bellini due perdi Prisma e Role Mentale che fondamentalmente cambia nome perché praticamente targettiamo, riveliamo il nostro mostro fusione mandiamo nei suoi materiali il nome dal deck al cimitero e il nome 2 diventa quel nome quindi diventa abbastanza importante perché ci manda anche il mostro al cimitero che comunque lo utilizziamo dal cimitero e lo rimuoviamo per giocarci i nostri bestioni Triple Ash Tripla Labyrinth Wall Shadow bellissimo i mostri non possono attaccare il trono in cui vengono evocati se hanno il loro livello 5 o inferiore quindi possono attaccare soltanto il mostro livello 5 o superiore una volta per trono durante la my face possiamo piazzare uno dei nostri Sanghan Sui-Gin, Kase-Gin che sono banditi nella mano o nel deck e nella zona magia e trappola ogni volta c'è un reciclo continuo perché comunque tutti li bandi per fare l'evocazione poi dopo le banditi se hai questa qui te le riposizioni quindi se ne hai un altro cimitero ti vuoi fare la fusione quindi veramente molto 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 grossa come carta quindi ci piace all'inizio della 4 pesa dell'avversario possiamo trattare un mostro che controlla con meno di 1600 di attacco e lo spacchiamo che comunque potrebbe essere interessante interruzione carina con il double attack se controlliamo un Gate Guardian trattiamo la carta di terreno lo spacchiamo durante la mine face possiamo bandire questa carta dal cimitero per raggiungere una delle nostre carte della trinità bandite nel deck per aggiungerle alla mano quindi molto molto buono anche qua ci ricicla sempre spada dalle 7 stelle il peschino perché comunque ci banna possiamo bandire uno dalla mano terreno di 7 e pescare 2 quando viene bandito ce lo ricicliamo mille e milla modi ce lo banna anche dal terreno quindi lo possiamo piazzare bandirlo dal terreno pescare 2 e riciclarcelo quindi molto buono 3 hero lives per giocarsi direttamente lui dal deck buono con led foolish un dark ruler per poter giocare tranquillamente di secondo cioè un doppio dark ruler per giocare tranquillamente di secondo fusion deployment che ci sarebbe per evocare i nostri mostri materiali da fusione dal deck eccezionale eccezionale questa carta in determinato è questo prey of the giregumo che anche lui ci fa da ottima interruzione perché spacca il mostro nella colonna quindi molto molto buono per concludere il 3x di impermanence tutti i mostri di fusione si cadono in una maniera facile facile quindi andiamo a vedere abbiamo il 3x del gate guardian combined il 3x di non riesco a leggere il nome gate guardian guardian of the water of thunder il boss monster è lui perché due volte per turno nega magia trappola questo non c'ha senso è fortissimo poi vabbè il 3x di quest'altro per concludere ho messo nightmare phoenix unicorn e bls poi possiamo andare un attimino a altre carte inseribili se vogliamo fare il deck old style possiamo aggiungerci ray jackie reborn cornell lava golem per andare secondo me va bene book of eclipse se non volete giocare la spot delle 7 stelle possiamo mettere pot ecco perché ho messo tutti i materiali da fusione in 3x quindi possiamo mettere extravagance terraforming se non mi basta lui un altro dark ruler non more e ririokugardian per sfondare di mazzate l'avversario proprio per è carina ririokugardian magari si può togliere uno di lui e mettere il ririokugardian così ce l'abbiamo proprio tutte mazzo veramente bello io spero di riuscire a farmelo perché non me ne frega niente se è competitivo o no io voglio giocare con questo ne frega niente proprio però non me ne frega niente fa delle cose abbastanza interessanti ovviamente competitivo non lo è però insomma molto molto figo quindi non me ne frega niente se vado ai local e becco 8T meno 5 che mi sfasciano questo io lo voglio giocare detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti e Grazie.